Noi faremo sabato a Roma una manifestazione a difesa e sostegno della vita e della famiglia. Questa conferenza stampa viene a coincidere con il giorno seguente alla dichiarazione importante dei vescovi italiani. Noi siamo dell'idea che mai come in questo momento la famiglia italiana è stata sottoposta ad un attacco. Un attacco che è un attacco ideologico dal quale noi vogliamo difendere e proteggere la famiglia italiana. Noi non ci sentiamo vintage nel dire che il bambino ha bisogno di un papà e una mamma. Non ci sentiamo oscurantisti nel dire che la famiglia è fatta da un uomo e da una donna. Siamo pronti e lo abbiamo sempre detto a riconoscere migliori e maggiori tutele ai matrimoni, alle coppie regolarmente sposate. Lo abbiamo sempre detto con grande forza e questa sarà la battaglia e lo scopo anche di questa legge finanziaria. Al tempo stesso abbiamo sempre riconosciuto per le coppie non sposate che siamo pronti a dare un sostegno per una maggiore tutela patrimoniale. Ma questo non deve essere un facsimile di famiglia. Noi siamo contro leggi che trasformino anche con cambiamento dei nomi il concetto di famiglia in un qualcos'altro. Se con un nuovo nome noi dobbiamo costruire un nuovo istituto giuridico che diventa un facsimile di famiglia, noi siamo contrari. Grazie a tutti.